ciao 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 a tutti allora oggi volevo farvi un blog una registrazione insomma che poi diventerà parte di un blog proprio truccata messa bene infatti ho iniziato ho iniziato bene facendomi la doccia e lavandomi i capelli e questa costruzione che sembra far parte di insomma un copricapo indiano in realtà è il mio tentativo di asciugarmi i capelli naturalmente senza sfruttare troppo il phon e cos'è successo poi siccome sono più pigra di quirk cobain che si era andato a sposare in pigiama a metà della dell'operazione mi sono stufato detto va bene registro così come sono e vaffanculo domani non dovremo andare in molti posti come ho detto nel blog di steemit che se mi ricordo vi metto in descrizione comunque il blog di ieri e io sono a chiocciolina drago 18 12 1996 ripeto steemit slash at drago 18 12 1996 comunque dopo questo simpatico dopo questa simpatica prima parte vi devo rendere note alcune cose benissimo domani dovrei andare per sentire nell'università che trovate a coln la zufl così è chiamata giuro di bonn e dovrei andare a parlare per una mia eventuale iscrizione il prossimo anno se non troverò ancora lavoro però ci dovrei usare anche molto probabilmente l'anarchennon che però mi arriverà fra qualche mese l'anarchennon è il mio riconoscimento degli studi loro hanno fino a tre mesi per riconoscermi gli studi dal momento in cui ricevono i miei miei soldi e i miei documenti prima i documenti poi i soldi comunque volevo farvi partecipare se voi siete senza lavoro anche voi a col a cui chi ci dovrebbe essere dunque un giorno della cardiologia una corriere carriere stag fra un mese circa fra 29 giorni per la precisione e lo potete trovare sul sito www carriere tag punto org slash besucher che vuol dire visitatori slash cool cool scritto k o e l n io vi invito a partecipare insomma è il 9 scusate e lotto di novembre non so più leggere e sarà effettuato dalle 10 alle 17 30 io ci vado sempre così posso parlare con le ciare ed arrabbiarmi un po bellissimo un'altra mi sembra fiera del lavoro o simile è organizzata dalle dolce bano dalle ferrovie tedesche quindi se volete partecipare andateci per ora è tutto io ho fatto questa introduzione che farà parte del blog di domani e quindi monterò questo simpaticissimo video e vi saluto a domani ciao ciao